Tutta cosa, a buone sali, sono stato a Rio di Giameria, così si dice, alla plata, e poi ho accettato io, cugine, sono cugine, mi era piaciuto, ma niente, ho fatto appello a tante. E come si chiamava? Arturo, Arturo Domenico, Domenico, Arturo Francesco, Arturo Teresino, proprio Teresino, ed erano figli di chi? Sì, Arturo Antonio. E a voi che cos'erano? A mia erano figli di papà. Quindi zii, zii vostri? Zii mia, io ero figli di voi. Poi erano carabinieri ausiliario, la moglie quando ha visto che è giusto il cervecato, si è innamorata, si chiamava posto Rivo, che era insegnante, si aveva prenduto i diplomi magistrali. Se sono sposata, si mi sono giunta in Argentina. In Argentina. Questo intorno a che anno? Eh, chissà, io praticamente sono da U28, avevo tre anni, U28 era verso il 33. 33? Il 33. Va bene, mettiamo. No, 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 no. E poi dopo, dici che figlio, un nipoteo fa, quando mi faceva tre anni me ne avevo già già. Ah, che vi adottavano? Va bene. Allora, noi mettiamo intanto questa storia qui, poi vediamo se qualcuno risponde. No, eh. Eh, potrebbe rispondere qualcuno, eh, potrebbe. No, eh.